Le nostre intervizie ai cittadini qui al Circo Massimo Siamo con... Cristina, tu come mai sei qui al Circo Massimo? Eh, perché ci vogliamo, ci vogliamo essere Ma tu sei simpatizzante, sei attivista, sei semplice cittadina, curiosa Che cosa ti aspetti da queste tre giornate al Circo Massimo? Perché non è giusto di prendere un po' di speranza, perché ci sono nero, nero, nero Mi faccio stare insieme alla gente, la faccia come me E non di ricordermi non tanto davanti al giornale E non parte prima di conoscere, non di insieme Giornali di partito poi? Partito, ma pensavo chiaramente che è dire anche meglio cosa sta facendo il movimento a tutti i livelli Sia parlamentare, che europeo, che territorio, che loculare Perché non sempre basta tutto, no? Non si deve vivere Ok, ringraziamo i nostri amici e continuiamo Grazie